E con l'occasione vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato E vi chiedo un grande applauso per Davide Assanelli Per la chitarra, che sono a letto secondo le voci stop E per Simone Moroni, l'armonica Io sono Vittoria Polacci, la voce è Washboard Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, su Spotify e seguire i nostri prossimi aggiornamenti E ringraziamo ancora tantissimo noi nell'organizzazione E ringraziamo ancora tantissimo per averci ascoltato 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 Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille